Era importante prendere questi tre punti in un campo difficile come quello di Udine perché loro hanno fatto una partita fisica, avevano bisogno di punti anche loro e noi avevamo lasciato cinque punti nelle ultime due partite anche in modo un po' immeritato per alcune disattenzioni soprattutto nella seconda e quindi sapevamo dell'importanza e i ragazzi hanno dato una grande risposta e una bella risposta. L'Aventus ha avuto delle difficoltà, poi hanno perso un pochino di ordine e l'Aventus è cresciuta anche fisicamente e in mezzo alla fisicità ci si è messa la tecnica che abbiamo.